Si chiama WEAM, Ufficio Europeo dell'Area Metropolitana e unisce, prima della Grande Pescara, tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. Finanziato nell'ambito del POR FSA Abruzzo 2014-2020 S4 è pensato per favorire in forma coordinata la gestione associata di servizi a sostenere l'accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere sui programmi europei, nazionali e regionali. Dopo l'approvazione della coprogettazione fra i comuni, oggi c'è stata l'inaugurazione negli spazi riassegnati che erano dell'Europaurum. Inaugurazione che arriva all'indomani dell'assise civica congiunta nel Palazzo di Città di Pescara, primo atto della fusione da mettere in campo a seguito della legge regionale che istituisce proprio la Grande Pescara, soddisfatto il sindaco Alessandrini che parla di una giornata storica. La seduta che si è svolta è quella istitutiva dell'assemblea costituente della nuova Pescara con i tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore, che coerentemente con le previsioni della legge regionale hanno insediato un organismo. La volontà popolare è stata chiarissima, il legislatore regionale ha prodotto un testo normativo e quindi ci dobbiamo mettere in cammino. Siamo consapevoli che il comune di Pescara, il comune di Montesilvano, rinnoveranno i propri organi nel maggio prossimo, ma a prescindere da chi rappresenterà i comuni c'è l'obbligo giuridico e direi anche morale di dare attuazione a questo percorso. L'Ufficio Europa ci aiuterà a trovare finanziamenti e a mettere in piedi buone pratiche di arie vaste. Meno entusiasti i sindaci di Spoltore e Montesilvano da tempo perplessi sull'attuazione della grande Pescara. Assolutamente, io ho detto che la legge va rispettata, però è chiaro che noi dobbiamo essere attenti che questa legge, come tutte le leggi, produca effetti positivi per la nostra città e non effetti negativi. Quindi noi siamo a far sì che la legge sia per Spoltore un'opportunità e non un disservizio e qualcosa di negativo. Il sindaco Maragno parla apertamente di un provvedimento regionale scritto male. Ieri siamo rimasti francamente a bocca aperta perché ci aspettavamo un bagno di folla, ci aspettavamo che tutti quei sollecitatori e tutti quei facilitatori che in tutti questi anni ci hanno pressato fossero presenti a festeggiare l'inizio del percorso. In realtà erano presenti soltanto i tre consigli comunali che hanno dovuto constatare amaramente il disinteresse generale. Diciamo che i tempi sono stati sicuramente sbagliati, ma forse tutto il percorso è stato sbagliato.